Ciao, io sono Menka ASMR questo è il mio canale e tu sei sempre il benvenuto o la benvenuta il video di oggi sarà un video completamente dedicato ai mouth sounds e parò in modo di potermi rilassare il più possibile andrò a pronunciare qualche suono o parola a volte anche prive di significato che semplicemente fanno un suono a mio parere super super triggeroso e spero tanto 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 che ti possa piacere e che ti possa rilassare e quindi se ti vai iniziamo la prima parola o suono che farò sarà dove abbiamo passato... 4 6 4 5 6 8 9 5 7 11 sc 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 suca suca Sì Sì, sco, sco. step, 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 step. Fatemi poi sapere qua sotto nei commenti se avete avuto un suono in particolare che vi è piaciuto e quali di questi, insomma, è... ... 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 schtucca Suc-suc-suc-suc-suc.. spugga 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 sp Grazie. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. e la mia amichetta qua sotto e la mia amichetta qua io muoio dolcezza credo che concluderò l'ordine di questo mondo lasciandosi un po' diffusa e di tenerezza cioè la sto tenendo, si sta addormentando così buonanotte a tutti quanti voi da me e dalla mia amichetta birra spero che le sue fusa vi possano far addormentare la strapazzerei di coccoli penso sia la catapicuccoluna della terra buonanotte a tutti buonanotte a tutti ti vai a intruvolare buona nanna comunque per chi non lo sapesse questo piccolo essere ha solo due mesi un bacione appunti e noi due ci vediamo in un prossimo video perciò se ti va passa di nuovo qui sul mio canale un bacione da parte nostra alla prossima